Stasera a metrò piena, affollata, ma guardate quanta gente, ma guardate quanta gente c'è stasera allo stadio di San Siro, qui è Milano, si vive, si vive qui a Milano, ogni giorno c'è una novità, ogni giorno c'è una novità bello, 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 bello qua, a Milano c'è vita, tanta gioventù, tanta gente allo stadio di San Siro poi fanno il concerto di Renato Zero, io ci sarò, io ci sarò al concerto in aprile di Renato Zero, qui si vive, è una metropolitana, a Milano c'è tutto, però mi piace anche stare nei piccoli borghi dove la mia solitudine prende ali nelle case disabitate, mi piace sia il via vai che anche il cambiamento, catapultare la propria vita in senso di remita, catapultare, sì, mi piace essere così in due modi, vivere in una città metropolitana e vivere anche in un borgo isolato dove la solitudine prende ali nel mio pensiero, nel mio piccolo pensiero che non basta il monitor, ma sono io che vivo, vivo sempre con tenazione di nuove emozioni. Io sono qua a Milano Porta Garibaldi, vi saluto da questo YouTube Aldo Aldo